Ciao a tutti! Oggi prepareremo le patate prezzemolate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, patate tagliate a pezzetti, sale, prezzemolo, aglio senza anima, olio evo, sale e pepe, aceto di mele. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e l'aglio senza anima. Ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, il sale, l'aceto di mele e il pepe. Ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 4. La salsa è pronta a mettere da parte. Senza lavare il boccale mettere l'acqua, un cucchiaino di sale. Posizionare il cestello. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma. Velocità 1. Le patate sono cotte. Trasferire in un'insalatera, condire con la salsa, lasciare intiepidire e servire. Patate prezzemolate. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.